La chiamano la maledizione dei faraoni, la vendetta contro avventurieri che disturbano le sacre tombe delle piramidi. 1699, una nave polacca che trasporta due mummie è perseguitata da visioni spettrali e tempeste atroci. 1803, quattro membri di una spedizione entrano nella piramide di Kefren per non fare più ritorno. 1922, viene aperta la tomba di Tutankhamon e delle morti tragiche colpiscono la squadra degli scavi archeologici. Nei successivi 91 anni nessun'altra tomba è stata violata. Dì loro di non aprirla, digli di aspettare. Fino ad ora. Che gli è successo? Aria tossica. Che si trova solitamente nelle caverne e nelle tombe che sono state sigillate. Come potete vedere la piramide dietro di me ha soltanto tre lati e non quattro come le piramidi di Giza. Guarda quanto è grande. Fanny, dice che non si può entrare. Questa è la scoperta del secolo. Scordatelo che io non venga dentro. State vicini e non toccate niente. Guardate qui. Che cos'è? Le incisioni raccontano una storia, è un avvertimento. Per che cosa? Che succede? Dobbiamo uscire da qui uno alla volta. Oh mio Dio. Non c'è uscita. È un labirinto costruito per impedire a qualunque cosa sia all'interno di uscire. L'avete sentito anche voi. No! No, ditemi che non è vero. No! Andiamo! No! Aiuto! Non guardare giù! Non guardare giù! Non guardare giù! No guardare giù ci當ai successo! Quim so